Zaccaria! Shalom! Elisabetta, sono qui! Zaccaria! Zio! Oh, Elisabetta! Che bello! Arrivederci! Non può parlare adesso? Ti spiegherò più tardi. Va bene, attenta, attenta! Sto bene, non temere. Sto bene, siediti, siediti. D'accordo, d'accordo, mi siedo, mi siedo. Tu sei benedetta tra tutte le donne. Ed è benedetto anche il frutto del tuo grembo. Aspetta, tu come fai a saperlo? Ah, ormai non dovrei più stupirmi di certe cose. Sta succedendo una cosa ancora più meravigliosa. Ma questo è niente. Che grande cosa! Perché la madre del mio signore viene a farmi visita. Un suo messaggero ti ha parlato di me. Quando ha sentito il suono della tua voce, il solo suono del tuo saluto, il bimbo ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata ecco lei, che ha creduto nell'adempimento della promessa che ti è stata fatta dal nostro signore. Un messaggero ti ha raccontato di me. No, il messaggero ha parlato con mio marito, ma Zaccaria gli ha detto no, non ci credo. Possiamo rallentare un momento. Non sei nelle condizioni di sprecare il fiato. Quando ho saputo della notizia, sono stata così felice per te. So quanto a lungo hai sofferto. Devi raccontarmi i dettagli. La ragione per cui Zaccaria non poteva parlare con te è perché non ha creduto nel messaggio che ha ricevuto da Dio sul mio futuro. All'inizio non ero sicura neanche io. Mi dispiace che debba scontare una penitenza, ma devo ammettere che una volta tanto non mi dispiace il silenzio. Elisabetta! Ma mi ha scritto tutto ciò che gli è stato detto e io ho memorizzato ogni parola. Il suo nome dovrà essere Giovanni. Non Zaccaria. Perché Giovanni? Forse non sarà un sacerdote come è stato suo padre. Seguirà invece un percorso diverso perché a Zaccaria è stato detto anche che Giovanni ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. ed egli camminerà innanzi a Lui con tutto lo spirito e la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i loro figli e per riportare i ribelli verso la saggezza dei giusti e per preparare così al Signore un popolo ben disposto per preparare la strada precisamente. Oh, eccolo che scalcia di nuovo. Metti la mano. Sì! È come se non vedessi l'ora di darsi da fare. Sì! È come se non vedessi l'ora di darsi da fare.